Dalla ricca immaginazione di Jim Henson e del regista Nicolas Roegh, è nato un affascinante capolavoro. Chi ha paura delle streghe? Un ragazzo un giorno scopre per caso il mondo segreto delle streghe e si rende conto che essi hanno dei poteri che non avrebbe mai immaginato. Nonna, sono io, Luke. Luke. Mi hanno trasformato in un top. Oh mio Dio. Era la grande strega suprema. Volete accompagnare Luke in un'avventura fantastica? Ciao. Luke non ha più scanto. Le streghe gli hanno messo il sale sulla coda e lui deve mettercela tutta per evitare le loro ire e non restare sghiacciate. Alla fine scatta l'idea geniale. Ma chi salverà il mondo dalle streghe? E chi ha paura delle streghe? E quale sarebbe questa idea geniale? Eh già, mica te lo vengo a dire a te. Jasmine Ho. Moon. Faci sui spì. asidine. nostri app. Grazie.